E' ovvio e sotto gli occhi di tutti che non siamo al 100%, non siamo al massimo, e quindi saper gestire queste partite e portare a casa i risultati lo stesso, anche non giocando una bella pallavolo in questo momento, per noi è fondamentale, per poter lavorare e costruire con più serenità in palestra il nostro futuro. Diciamo che siamo stati bravi a costruirci la qualificazione lì in Ucraina, la prima partita soprattutto lì. Penso che è stato un grande vantaggio vincere lì e partire stasera con due risultati a favore su tre. Stasera abbiamo partito molto bene e poi ce la siamo complicata. Abbiamo giocato con poca disciplina tattica, anzi abbiamo giocato veramente male a livello di muro difesa, però l'abbiamo portato a casa soprattutto con i nervi, volevamo questa vittoria, volevamo proseguire il cammino in Europa e quindi è arrivata questa vittoria sudata sì, ma penso che meritata insomma. Grazie per la visione!